Hi guys! Fala galera! Hola chicos! Ciao ragazzi! Siamo già 24.11 sono entrato in gioco ragazzi quindi magari se la partita dura poco giustamente ne porterò un'altra dopo. Siamo su frattura e allora ragazzi No, 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 non mi uccide. Non mi uccide, porco zio. Bravissimi ragazzi, tuoi colpi fulminanti Ok ragazzi, lì c'è qualcuno, vediamo un po' Ok, un altro, uno qui. Non l'ho preso una volta. Non l'ho preso mezza volta ragazzi, non vedete questa parte del video E allora ragazzi, ho il KN44, come vedete è figo con la Dark Matter e con alto calibro ragazzi Mori. Ma che cazzo di braccio ora? Che cazzo? Ho fatto una partita di scaldamento, sono andato benissimo giustamente ora Andrò una merda Ok No, 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 stavo scherzando E dove cazzo stavo? Ah, là, là. Ok, è qui? È qui? Eh, mi dispiace ragazzi, ora. Non mi uccide Ok, è finito tutto Oh, cazzo, mi ha fatto una partita di scaldamento. Una paura questo ragazzi, ora arriva qui questo Arriva, è forza qua. Arriva per forza qui Guardalo Intanto ci ha fottuto Intanto ci ha fottuti Dov'è che è? Vabbè, è andato, è andato, è andato ragazzi Oh cazzo, mi stavo colpendo Porca eh, oh Dove cazzo stavo nascosto? Allora, vediamo se riusciamo a portare questi cinque Pailini Allora, c'è uno qui No! Dietro Ok Perché mi sembrava strano davanti, da ragazzi Non so poi quello che mi ha fatto non morire Oh Oh Dai, dietro la porta I miei colpi, i miei colpi, i miei colpi non entrano E i suoi sì, giustamente, mi pare giusto Sei vero ma giusto Frattura sposata di nuovo di qua, raga Stiamo facendo 5-4 Una merita merda Allora Questa si immetizza Incredibile Lì non c'è più un altro Lì ce n'è da uno Eccolo Merda che non c'è altro Bastardo La cosa buona raga è che avendo il silenziatore non capiscono da dove io spari Però è un'arma a doppio taglia a volte Granata di merda Guarda, questo correva a caso sparando Allora, vediamo se c'è qualcuno qui Sì Però grazie al alto calibro riusciamo a fare qualcosa Se ora attivassi psicosi qui, raga Che succederebbe? Questo sarebbe un quesito da fare ai grandissimi War Chemical Che fanno gli esperimenti Che fanno una serie proprio riguardo a queste cose qui Ottimo il compagno No, ma non l'ho preso neanche una volta Oh Basta No, ma come si fa? Ma come si fa? Correvo come un mongoloide attorno all'ora E poi? Ma che la frottura c'è? Si è spostata di un metro Va bene Va bene, va bene, va bene No problems Mori Non sapevo che è quello che uccideva di là Raga Proviamo a cambiare l'arma Proviamo in Manowar Mi trovo abbastanza bene Mi sto grattando il naso Citazione Velox No, a parte scherzi Più che altro mi sto proprio scaccolando Non sto scherzando, ragazzi C'è un XCD lì Non so se avversario Credo di sì, però Ragazzi, questo No, ma come si fa? Cioè, ragazzi Il timing che c'ho in questa partita Fa schifo È il timing peggiore Peggiore della mia storia Basta con questo naso Vengono da qua, raga? Vengono, secondo voi, uno La fa sta strada, secondo voi No, nessuno che mi calcola Tutti sopra Ci vorrebbe il Vespa Ok, c'è qualcuno che viene Preso Probabilmente c'è un altro Fatto il compagno Questa volta ve la rubo io No, non ho visto lago questa Oh, cazzo Con la marcia Madonna, ragazzi Vediamo la marcia Che può Magari può servire Ogni tanto Potrebbe Uabi in arrivo Dietro Ok, l'hanno fatto L'hanno fatto Bene, così, raga Cerchiamo di Di non morire, raga Vorrei cercare di morire poco Questa volta Entrare un po' in serie Perché veramente Se no mi fa pena Sta partita Stanno a sparare dietro, raga Uno Due C'è il terzo, raga Il terzo C'è anche il quarto Ok, per ora no Abbiamo la marshal Mamma mia La marshal mi ha salvato il culo Mi ha esagerato One shot Ah, andiamo a vincere Ragazzi non me ne ho accorto Se no continuiamo Vabbè Passiamo subito Alla prossima partita Ci siamo un po' messi meglio Rider 7-9 Quella marshal lì Eccola qui ragazzi La killcam Mi ha salvato veramente il culo Perché secondo me il tempo di caricare è tutto Guardate che cane sono stato Però ci stavo, raga Erano 10.000 addosso Ci stavo, dai Ci vediamo alla prossima fattura Dove cazzo sei Ok ragazzi Andiamo a prendere sto file Che non fa male Qui c'è qualcuno Qualche furbacchione Che vuole Vuole farci la sorpresa Quanti ce ne stanno Dio santo Ok Andano fatti tutti fuori? Davvero? Davvero tutti fuori Andano fatti Vabbè Prendiamoci la nostra Il nostro file Bravo Bravo compagno Questa volta ho preso Una squadra fin troppo forte Fa tutto da sola Cioè raga Allora Questo è fatto Ne arriva sicuramente altri qui Contatissimo Preso Preso Era assist però No 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 Bene ragazzi Mi sta piacendo Mi sta piacendo Ora è il momento Di andare a consegnare Raga Non è consegnare Come i facchini Mori tu Mori tu Sì sì Godo Torretta rinforzata Raga Brighter Raps E vabbè raga Che vi devo di Che vedevo di raga No 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 Non scherziamo Non scherziamo No ha messo lui La torretta E io la metto qua Giusto perché Sono cattivo Ucciso ragazzi Beh ora faremo Poi lo sfracelli Sfracelli su sfracelli Raga E che bello sto di affà Che bello sto di affà Dove è uscito questo Problemi tecnici Alla registrazione Come avete visto Purtroppo non si è caricata La prima Ora mi sono accortato I primi minuti Vabbè Non fa niente Siamo qua 25-4 I raps Mi stanno facendo Tantissime kill Alcuni Stanno anche Ovviamente Come si dice Quitando Raga E così Succede sempre Praticamente Quindi No vaffanculo Però 180 punti Da un'altra torretta Di merda Allora vediamo un po' Muori Tutto mio Tutto mio Sono un ingordo Di merda Scusate tu Questa te la puoi piccare Nel culo Ah Andata di calore Acciappato questa Beh raga Orviate Ora me ne fotto Del rateo Del rateo E andiamo a rasciare Senza problemi Sciala Mori tu Allora raga Ora riproviamoci Vengono da qui sicuro O meno da lì Sono qua dietro Secondo me Sono qua dietro Oh no Sono lì sopra Guarda Quello con lanciarazzi Dark matter Cazzo Li umiliamo Raga Li abbiamo umiliati Oh Questa non si è neanche accorto Che stavo lì dietro Andiamo a dire un po' Di chiudere là Quest'altra parte Se ci usciamo Se qualcuno vuole Venire No Eh sta di qua Raga No non viene nessuna qua Ok quindi Uccidiamo di qui Se vengono Vieni di surba Raga Attenzione 33.6 Dov'è questo? Sento qualcuno saltare Una vera psalleata Bene Bravo Far Il far è fenomenale Sto scherzando Allora Può essere che sono lì sopra Può essere che sono a casa Non capisco dove cazzo sono questi Non capisco dove cazzo sono questi Allora Vabbè raga Va bene così Non fa niente Non fa niente Spero che il video vi sia piaciuto Che questo far vi sia piaciuto Se volete raga lasciate un like Se volete ancora Black Ops Io sono felicissimo di portarvelo Questo è tutto ragazzuoli Un abbraccio Alla posto Zio Alphix E tutto Ciao Ciao